Tra tombe e vasi di fiori in pieno giorno hanno pensato bene di fare un bagno in cimitero. La scena è avvenuta sotto gli occhi alibiti di una cittadina di Piazzola sul Brenta che si era recata a pregare al Camposanto di Isola Mantegna. La signora ha fotografato la scena, divulgata poi sui social. Nell'immagine si vedono due uomini, uno dei quali completamente nudo, che vicino agli innaffiatoi ai rubinetti d'acqua si stavano lavando e stavano facendo anche il bucato contatto di bacinella con abiti in amollo. I due uomini sono sconosciuti e tranquillamente incuranti del luogo in cui si trovavano si stavano lavando. Secondo i cittadini non è la prima volta che il cimitero di Isola Mantegna viene usato come bagno a cielo aperto. Il comune invita i residenti a denunciare gli episodi alla polizia locale in modo da poter intervenire magari posizionando delle telecamere di videosorveglianza.